finalmente finalmente a casa scuola di merda vediamo se su youtube c'è qualcosa di decente di bello ma che bambino canta pensa ma vabbè ma è un bambino sarà bravo credo vabbè vediamo ci sono stati uomini che hanno scritto pagine a punte di una vita dal valore inestimabile insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra però hai un futuro da rapper sei molto veloce molto questo sì infatti non si capisce un cazzo il fare di famiglia sparsi come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie fra limone e fra conchiglia oh frate così forse ti somiglio un po' che dici? però c'è la canottiera però è figa vediamo abbastanza sexy che dici? che dici è sexy? su un'isola di sangue che fra tante meraviglie fra limone e fra conchiglia lo sacra figlio e figlia è di una generazione costritta a non guardare e a parlare a bassa voce che cazzo sto guardando? che cazzo sto guardando? che cazzo sto guardando? amore stai perdendo un video azzo eh mi sei d'aiuto grazie eh è peggio di te tranquillo cosa è nostro è post la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare la bocca per parlare le orecchie ascoltano non solo musica non solo musica la testa si gira e aggiusta la mira ragiona oh sta cosa è bella mi piace a volte condanna a volte perdona arriva 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 semplicemente pensa prima di sparare pensa prima di dire di giudicare prova a pensare addio bravo 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 oh 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 bravo oh scusa oh calmo eh calmo non volevo perdonami pensa che puoi decidere tu io mo bestiare o io mo a me a me proprio mo la bomba resta un attimo soltanto un attimo di più oh tranquillo tranquillo non me ne va tranquillo ci fa compagni che bel che sei bel sei bel certo che sei bel mo l'orma anche sei bel bene come sei cuccioso con la testa fra le mani ci sono stati uomini che sono morti giovani ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei frate comunque la bocca vabbè tranquillo non è un problema oh ma hai visto che è bomba cioè allora sa cantare senza aprire la bocca è il nuovo idolo è il nuovo idolo è il nuovo idolo tranquillo no scusa io non lo sapevo tappe reali come piccoli miracoli idee d'uguaglianza idee d'educazione contro ogni uomo che eserci tua pressione perchè? perchè? io dico perchè? perchè? basta 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 oddio ma che stava guardando? oh mio dio no tranquilli non mi sto eccitando è solo l'impressione ma cos'è sta roba? oh no non ce la faccio non ce la faccio proprio eh ora capisci? vabbè andiamo avanti pensa che puoi decidere tu resta un attimo soltanto un attimo di più con la testa fra le mani ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato perchè in fondo questa vita non ha significato seppur in una bomba di basta basta ok qui dentro qui dentro ho la canzone qui dentro qua proprio qua su vieni vicino e vedi qua la vedi qua proprio qua la vedi quindi ho da dirti delle cose che poi è una ma abbastanza importante curati e poi ne ripariamo oh albè hai rotto le palle con sta faccia oh lo vuoi un consiglio? lo vedi quel muro? sempre dritto che è un'altra